buonasera buonasera a tutti benvenuti nel canale benvenuti in questo nuovo video video reso conto di quello che è successo nella giornata di domenica l'ottava giornata del rolanda ross giornata di domenica 29 maggio primi quattro ottavi di finale del singolare sia maschile che femminile partiamo dal tabellone completato ovvero da quello femminile e partiamo dall'impresa della nostra martina trevisan che ha battuto che ha battuto in due set 76 75 una partita lottatissima la sasnovic 12 10 tie break del primo set una grande martina una grande martina che dunque approda ai quarti di finale partita equilibrata come era nelle previsioni partita però chiusa in 27 da una straordinaria martina che che del primo set era andata due volte indietro di un break è sempre stata in partita lo ha recuperato il lo ha recuperato poi nel turno di servizio successivo ha avuto quattro palle break per andare a servire per andare a servire per andare 5 3 da andare a servire per il primo set la sasnovic ce l'era annullate poi ha perso il servizio sul cinque pari andando sotto 56 ha controbleccato sul sei pari e poi ha lottato un tie break incredibile dove ha avuto cinque set point ha chiuso al al quinto set point annullandolo uno sul 9 8 a favore della sua avversaria un po più semplice il secondo set intanto al carazza a due match point contro contro facciano 6 1 6 4 5 4 40 15 quindi tra un po saranno finite anche immagino anche le partite del circuito femminile dicevo nel secondo set la trevisan finisce sotto 53 riesce a recuperare lo svantaggio e a chiudere il set e il match per sette punti a cinque al primo match point un grandissimo risultato quello della trevisan che dunque arriva negli nei quarti di finale affronterà nei quarti di finale la fernandez che nel frattempo ha battuto la nisi nova per 27 1 6 3 4 6 7 il punteggio a favore della canadese l'altro quarto di finale sarà tra la gauf che ha battuto 2 a 0 la mertens 64 60 e la stefens che ha battuto 2 a 0 la t pique man per 6 per 6 2 6 0 intanto passando al maschile al carazza appena concluso il suo allenamento perché definire la fatica è troppo 3 a 0 a casciano una partita che come previsto come vi avevo detto non c'è mai stata 6 1 6 4 6 4 casciano un po più in partita nel secondo e nel terzo set ma a carazza se l'è gestita alla grandissima quarti di finale che sono l'obiettivo l'obiettivo minimo dello spagnolo che affronterà adesso zero nei quarti di finale serve che si è liberato in 37 di un pericoloso colombiano zapata miralles che ha dato battaglia nei primi due set ha perso il tie break del primo set 13 a 11 poi ha perso 75 il secondo poi nel terzo set è crollato tutto facile invece per nova gioco vi c'è un nova gioco vi c'è che ha passeggiato contro di chito schwarzman 61 63 63 confermando il 60 che adesso diventa 70 nei precedenti vuol dire che l'argentino proprio con con gioco vince non può giocarci in nessuna superficie ed è finita come doveva finire molta più lotta è una dal impegnato allo spasimo contro alle assim ma nadal ne è uscito vincitore per 3 6 6 3 6 2 3 6 6 3 una partita dove nadal ha dimostrato per l'ennesima volta il motivo per cui ha vinto 14 roland aros ha rifiutato l'idea di perdere la partita si è a un certo punto alle assim sembrava avergli preso le misure ma nadal si è attaccato al suo tennis ed è riuscito in qualche modo a portarla a casa in qualche modo a vincere la partita sfruttando l'unico momento in cui nel quinto set aliasi ma ha sentito la pressione ovvero quando sul sul 4 a 3 nadal alle assim è andato a servire per andare cinque pari lì la pressione il canadese ha sentito la pressione è finito sotto 15 40 e il game si è concluso con il break che poi ha permesso a nadal di chiudere al primo match point l'unico a problema che può aver nadal è che ha chiuso dopo 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 troppe probabilmente ore di gioco ci ha messo 4 ore e 23 a passare questo turno con gioco vince molto probabilmente questa faticata questa lunga faticata nadal la pagherà io sono tuttora convinto che la serie che la semifinale della parte alta del tabellone sarà gioco vi caccaraz perché io vedo il ragazzino spagnolo favorito per vincere il titolo e credo che possa battere sia zero che gioco vince però eccola gioco vince dovrà affrontare questo nadal una dalla che nonostante l'età nonostante gli acciacchi nonostante tutto quando conta riesce a trovare il suo miglior tennis ed essere un avversario competitivo è un avversario che non si batte da solo nadal lo devi battere non si batte da solo a un rifiuto categorico della sconfitta e questo è la dote che hanno i campioni detto questo io vi saluto vi ringrazio dell'attenzione ci vediamo domattina per i pronostici del della seconda parte di tabellone della parte passa del tabellone maschile e della parte alta del tabellone femminile e poi alle 11 per l'uscita della grande storia del tennis in ritardo di una settimana all'uscita dedicata al kid di las vegas ad andrea agassi buona serata a tutti e a domani